Ciao a tutti cari amici, bentrovati con il secondo appuntamento con la rubrica dedicata all'oroscopo settimanale segno per segno. Allora iniziamo subito con i segni di fuoco, ariete, leone e sagittario. Come al solito ho già preparato i mazzetti perché altrimenti diventa veramente lunghissimo. Inizio con la riete. Allora cari ariete, scusate, penso di aver mosso la telecamera, benissimo. Allora apriamo la stesa, abbiamo un cavaliere di denari, una morte e un cavaliere di spade e l'oracolo dell'amore. Ritirarsi è tempo di staccarsi dal mondo. Allora cari amici della riete, la prossima settimana potreste avere un'offerta abbastanza vantaggiosa che in qualche modo vi viene negata. Allora dal punto di vista sentimentale qua c'è un grosso cambiamento con la morte a centro stesa, è un arcano maggiore ed è anche il centro proprio della lettura e questo mi sta ad indicare un grosso cambiamento. Quindi qui potrebbe addirittura trattarsi di un taglio di una situazione, quindi se state insieme con una persona qui potreste avere addirittura proprio un allontanamento, quindi non stroncare un rapporto. Qua il cavaliere di denari mi parla di una persona che sta portando ad un'altra qualcosa questo denaro, lo sta offrendo come principio diciamo di costruzione di qualcosa di importante e poi abbiamo la morte, la morte che porta un mutamento, un cambiamento estremamente importante. Allora potreste essere voi che smettete di dare questa opportunità a una persona, perché qua vedo che c'è il cavaliere di spade che mi parla comunque di un soggetto che è un po' irruento, una persona un po' aggressiva, un po' anche arrabbiata. Allora mi fa pensare varie situazioni questa stesa, allora nel caso in cui foste impegnati qui potreste anche chiudere e arrabbiarvi fortemente per questa chiusura, ma non è detto che siate voi a chiudere, potrebbe essere anche l'altra persona, fatto sta che c'è comunque un ribaltamento di una condizione che sembra da piacevole, una condizione che va invece in negativo diciamo. Quindi qui c'è anche la carta di ritirarsi, è tempo di staccarsi dal mondo, a me fa pensare che qui potrebbe per voi esserci appunto una rottura di un rapporto o anche un litigio che porta a una rottura. Un'altra cosa che mi fa venire in mente è se voi state corteggiando una persona o avete comunque una vista, una donna che vi interessa, però dovete ancora in un certo qual modo farvi avanti in modo più importante. Qui mi fa pensare che da persona pacata diciamo che offre una certa sicurezza dal punto di vista materiale, cioè quindi una persona che non è che si fa avanti in modo così a caso, ma è una persona comunque pondera, una persona che non corteggia come il cavaliere di coppe con le rose, i fiori, eccetera, ma è una persona estremamente materiale. Qui potrebbe darmi l'idea essendo due cavalieri che voi in un certo qual modo vi irritate e cambiate atteggiamento. Quindi passate da una persona che è anche un po' spavalda, un po' arrogante, una persona che comunque, vedete, va verso la situazione con la spada tratta. Quindi qui insomma c'è un po' di movimento, cari amici della riete. Andiamo a vedere il leone. Allora, andiamo subito a aprire le carte. Allora abbiamo un bel mago, bagatto come lo volete chiamare, poi abbiamo un due di pentacoli e una regina di spade. E qua sull'oracolo abbiamo lascia andare il tuo ex e è tempo di ripulire la tua energia. Allora, cari amici del leone, qui nella prossima settimana, non lo escludo per voi, con questo due di denari in centro stesa proprio, che dobbiate prendere una decisione. Una decisione tra due situazioni o tra due persone o anche proprio, qua mi fa venire in mente, dato che a sinistra c'è il mago e a destra c'è una regina di spade, potrebbe farmi venire in mente una persona, una donna nello specifico, che in un certo qual modo sta infastidendo il rapporto o la situazione. È una persona che potrebbe per alcuni di voi essere la compagna, la donna che frequentate, che è un po' indisposta, è una persona che potrebbe essere del segno d'aria, quindi gemelli, acquario e bilancia, ok? Però è anche una persona che è molto anche tagliente con le parole, una persona che potrebbe aver sofferto o che sta soffrendo. In ogni caso qui il bagatto mi parla anche di una situazione lavorativa, quindi non escludo per alcuni di voi che dobbiate prendere una scelta appunto perché c'è troppo, è come se queste due cose voi le tenete in equilibrio, ma questa persona non sta bene come le state tenendo in equilibrio, ok? Cioè è infastidita questa persona perché potreste avere troppo da lavorare, troppo a che affari con la vita lavorativa e questa persona potrebbe sentirsi un po', diciamo, poco guardata, ecco. E qui un'altra variante che può venirmi in mente in questa situazione, cari amici del leone, visto che c'è la carta di lascia andare il tuo ex, qua mi fa proprio pensare che voi abbiate bisogno di qualcosa di nuovo, ok? Con questo bagatto. Il bagatto è l'iniziazione, la persona che ha la possibilità di creare perché è a conoscenza di tutte le materie, quindi l'aria, il fuoco, la terra, l'acqua, ok? Ed è in grado di creare e c'è bisogno di prendere una scelta su qualcosa di nuovo perché qui questa persona con la quale, qua esce una donna, però ricordo sempre che se siete di girare in funzione della vostra situazione, qui potreste anche sentirvi a disagio a tal punto da aver bisogno proprio di qualcosa di nuovo, di lasciare andare. Quindi questa è la settimana per voi del leone. Vediamo il sagittario. Allora, apriamo subito i tarocchi. Allora abbiamo un 5 di bastoni, un 4 di bastoni e un bellissimo asso di coppe. Ok, vediamo l'oracolo. Nuovo amore, una nuova persona ha risvegliato i tuoi sentimenti. Allora, cari amici del sagittario, qui avremo una prima settimana molto probabilmente dettata da una sorta di contrasti interiori, ma anche proprio di litigi. L'intensità è da vedere perché con il 5 di bastoni potrebbe essere semplicemente un'incomprensione, una semplice anche, come posso dire, un litigio delle persone che comunque c'è un po' di tensione un po' di tensione all'interno sia della famiglia che con un rapporto con una compagna o un flirt, eccetera. Comunque c'è una sorta... Se state flirtando col 5 di bastoni, visto che c'è la carta di nuovo amore, potrebbe starmi ad indicare una situazione che è di competizione. Quindi qua potreste avere a che fare con una donna, con un uomo che non vi rendono la vita facile. Cerca di mettervi un po' i bastoni tra le ruote nel corteggiamento. E questa cosa un po' potrebbe infastidirvi. Comunque vedo che col 4 di bastoni c'è una riappacificazione, una serenità e se state corteggiando una persona, qua potreste con questo asso di coppe avere un invito, se siete donne o uomini, comunque qua c'è un invito in casa oppure in una situazione, comunque in una stanza, ma potrebbe essere serenamente la casa e si riprende una situazione di serenità. Qua appunto non escludo che ci siano nuovi amori, ma per chi è già in coppia, attenzione, perché questo nuovo amore potrebbe anche indicare una rinascita, una riappacificazione, visto il 4 di bastoni, o anche una nuova vita. Per alcuni di voi qua del sagittario non escludo che ci sia una situazione di tensione per un matrimonio, quindi nuovo amore intesa come nuova vita, nuova situazione, nuovo rapporto che va oltre, che cambia. Va bene, cari amici del segno di fuoco, ora passo ai vostri colleghi dei segni di terra. Vi do un abbraccio grandissimo e vi aspetto la prossima settimana. eccoci qua cari amici di segni di terra, abbiamo il capricorno, il toro e la vergine, andiamo subito con il capricorno, scopriamo la stesa e vediamo come andrà la prossima settimana. Vediamo se riesco a prendere le carte. Allora abbiamo un 2 di bastoni, un 2 di coppe, bellissima questa carta, un giudizio. E poi abbiamo negli oracoli dell'amore, relazioni delle vite passate, vi siete conosciuti in passato. Allora, qui cari amici del capricorno, con la carta del 2 di bastoni, la prossima settimana potreste avere una situazione, uno stato d'animo anche un po' nostalgico. Qui ci vedo un ritorno con questo giudizio, potrebbe esserci, non detto un ritorno dal punto di vista proprio pratico, quindi per alcuni di voi anche sì, ma qui con questo 2 di bastoni mi fa pensare proprio a una condizione di nostalgia rispetto a un rapporto del passato. Voi vi sentite appartenere a questa persona, avete proprio la sensazione di conoscerla da sempre, avete la sensazione che in un certo qual modo avete vissuto tanto con questa persona e vi è proprio un senso di nostalgia. Per altri di voi invece qui non escludo che abbiate un attaccamento un po' al passato, quindi non volete qualcosa di nuovo però fate fatica di staccarvi. Qui comunque con queste due di coppe e questo giudizio potrebbe esserci un nuovo rapporto, anche un nuovo incontro improvviso, un contatto, qualcuno vi chiede di incontrarvi e vi rivela qualcosa di importante, quindi non escludo che sia appunto qualcuno con cui avete già avuto un rapporto magari anche importante o anche un ex, una persona con cui in qualche modo avete vissuto qualcosa in passato. Vediamo per voi del toro, metto qui sopra anche se nascondo la carta di segni di terra, allora scopriamo i tarocchi, abbiamo un quattro di spade, un due di spade, un imperatore, poi qua abbiamo la carta degli oracoli molto presto, decidi lucidamente cosa vuoi così che avvenga ora. Allora cari amici del toro, questa settimana per voi è un po' calma piatta, allora questo quattro di spade mi parla di una situazione di isolamento, di blocco, di fermo. Qui non escludo per alcuni di voi che possiate avere a che fare con un uomo estremamente rigido, ok? Una persona che sicuramente ha delle intenzioni buone, cioè è una persona che sa il fatto suo, però potrebbe rivelarsi un tantino arrogante, un tantino presuntuoso, una persona anche un po' saccente, che è come se voi non avesse delle belle energie verso questa persona, come se capiste che in certo modo vi puzza di bruciato un po', non vi piace. Allora qui vedo che ci sono dei contrasti molto importanti verso quest'uomo, allora potrebbe essere un compagno, potrebbe essere anche un datore di lavoro, diciamo, no? Io comunque sto facendo le carte per i sentimenti, per l'amore. Infatti qua mi dice molto presto, decidi lucidamente cosa vuoi così che avvenga ora. Qua vi vedo in una situazione di contrasto appunto rispetto a questa persona, non sapete cosa fare, c'è un momento di pausa e quindi la prossima settimana direi che siete infermo. Se avete a che fare con questa persona, ma anche semplicemente come frequentazione, ma anche se stati insieme proprio, nel senso come compagni, marito e moglie, eccetera, qui, potrebbero addirittura esserci dei litigi e comunque un raffreddamento nel rapporto, un distacco, ecco. In ogni caso qua c'è da prendere una decisione vera presa appunto molto presto, quindi in settimana molto probabilmente rifletterete sul da farsi di questa situazione. Vediamo per gli amici della Vergine, vado subito ad aprire i tarocchi, allora un diavolo, un otto di spade, interessante, e qui abbiamo un mondo, ok, e gli oracoli dell'amore, giocosità, per riconquistare l'amore lascia risplendere lo spirito giovane e divertente che è in te. Allora, qui, cari amici della Vergine, mi vengono in mente varie situazioni, ricordo che sempre che comunque sono stese generali, quindi naturalmente i tarocchi parlano e io cerco di estrapolare il più possibile in modo che possa risuonare un po' con tutti. Allora, la prossima settimana potreste avere a che fare con una persona con la quale, non escludo per molti di voi che ci possano essere dei rapporti sessuali, fisici con questa persona, ma quello che vedo è questo otto di spade, scusate che mi parla di un blocco. Qui potreste, diciamo, cadere in tentazione, proprio la carne chiama, la passione chiama, ma diciamo che ci sono delle perplessità in seguito sul fatto di avere una realizzazione su questa situazione, perché qua questo otto di spade mi parla di un blocco, di qualcosa che non va avanti. E qua c'è la carta di giocosità, quindi sicuramente potreste avere qua un'avventura, un rapporto anche sessuale occasionale, qualcosa di veloce, nel senso che non è volto ad avere una relazione stabile. Per alcuni di voi qua ci vedo uno sblocco di una situazione, però qui dovrete attendere molto tempo, ok? Però per molti di voi qua potrebbe esserci appunto una situazione di una notte, proprio un rapporto sessuale e via, di gioco proprio, di divertimento, di puro divertimento, e poi qui si blocca e viene chiuso tutto, perché qua abbiamo l'otto di spade e il mondo che mi parla comunque di un completamento, quindi qua mi viene proprio da pensare che c'è l'attività fisica, fine, tu non ti senti con nessuno, nessuno di voi si sente reciprocamente, finisce tutto in questo mondo, ciao, arrivederci, e si va verso altre situazioni, il mondo parla anche della vita sociale, quindi altre situazioni di questo tipo. Per alcuni di voi non escludo che questo otto di spade sia per voi, visto che è centro stesa, una situazione di sofferenza, perché voi vorreste invece avere qualcosa di più, ma questa persona con la quale avete a che fare potrebbe essere una persona che non ha nessuna intenzione di avere un rapporto stabile e che quindi queste attività che avete comunque vi fanno soffrire, perché vorreste di più. Va bene, cari amici dei segni di terra, io vi ringrazio per aver seguito, ora passo ai segni d'aria. Eccoci qua, cari amici dei segni d'aria, allora abbiamo l'acquario, la bilancia e i gemelli. Parto subito con il segno dell'acquario e apro la stesa, allora abbiamo una temperanza, un bellissimo dieci di coppe e un giudizio. Bella, la prossima settimana per il segno dell'acquario, qua abbiamo conversazioni sincere, esprimete onestamente l'uno all'altra i vostri sentimenti. Allora, cari amici dell'acquario, la prossima settimana vi vedo circondati da persone che amate. Ci sono conversazioni, incontri con amicizie, proprio contatti, tantissimo contatto, tantissime parole, lo stare in compagnia e anche semplicemente lo stare proprio in famiglia. Però qui ci vedo proprio una serenità, una calma, tutto procede come deve procedere, con serenità, tranquillità, lentamente, tutto in equilibrio come da vostro segno, le conversazioni, lo stare assieme con gli amici, qua la carta del dieci di coppe parla sia di amicizie che parenti, famiglia. Se avete a che fare, state chiedendo un amore nello specifico, qua si potrebbe parlare proprio di mettere su famiglia, per esempio, o di un matrimonio, cioè discutere in maniera molto serena proprio di affrontare una vita familiare insieme, quindi di creare una vita insieme. Qui le carte sono chiarissime, più di così non si può. Allora, vediamo la bilancia, la metto qui sopra. Allora, nove di coppe, asso di denari, bello, e fante di coppe. Qui sulla carta degli oracoli dell'amore abbiamo riconciliazione, una persona del passato sta tornando nella tua vita. Allora, qui, cari amici della bilancia, con questo asso di denari, mi fa pensare al fatto che ci sia una nuova opportunità la prossima settimana. Allora, nove di coppe mi parla di una situazione, se stiamo parlando di un flirt, di un corteggiamento, qui abbiamo un'opportunità vera e propria, potrebbe esserci un contatto concreto, quindi qui potrebbe risultarvi, per esempio, un invito a cena, una persona che comunque si sta comportando, si sta flirtando nei vostri confronti, ma non vi sta prendendo in giro, è una persona che comunque vuole concretizzare. Qui, appunto, non escludo per alcuni di voi che ci sia un ritorno al passato, perché appunto c'è una carta della riconciliazione che cade guarda caso proprio sotto all'asso di denari. Potreste avere a che fare con una persona un po' più giovane o siete voi più giovani, questo fante di pentacoli, di coppe, scusatemi, potrebbe essere più giovane di voi o potrebbe essere anche più immaturo o semplicemente avere una situazione lavorativa più, un po' inferiore rispetto alla vostra, perché qui mi parla di una persona che sta ancora apprendendo, qui potreste avere a che fare con uno studente, con una persona appunto più giovane, una persona che, diciamo, anche lavorativamente parlando nella vita non ha ancora raggiunto una sicurezza, ma ci sta lavorando. Qui abbiamo il 9 di coppe, quindi abbiamo una persona, una certa serenità dal punto di vista sentimentale e qui si è tranquilli e sereni, comunque ci sono delle opportunità, qua potrebbe esserci un incontro o anche il ritorno appunto di una persona del passato. Vediamo adesso i gemelli, andiamo ad aprire la stesa, oddio, allora qua abbiamo un'eremita, un 6 di coppe e un 9 di bastone. Allora cari dentro stesa abbiamo una carta di nostalgia, sarete nostalgici, avrete dei ricordi, potreste trassognare ad occhi aperti, anche su relazioni del passato, su quello che è successo, qua abbiamo fai attenzione alle bandiere rosse, ci sono segnali che ti mettono in guardia. Qui abbiamo l'eremita, allora è una persona che riflette su quanto è avvenuto in passato. Per alcuni di voi potrebbe riguardare una situazione, uno stato di solitudine, di freddezza interiore, ma anche proprio un isolarsi, cioè un isolamento che però è voluto, voluto perché c'è bisogno di guardarsi dentro, di capire la propria strada, di cercare quello che vogliamo dalla vita. E qui abbiamo proprio un ricordare, un ricordare il passato in modo nostalgico, anche fare i conti con quello che si è fatto in passato. Questa 9 di bastone mi parla di una chiusura che voi avete, avrete la prossima settimana. Poi qui potrebbero esserci delle ferite e la carta vi sta avvisando, fate attenzione alle bandiere rosse, perché qui secondo me in base alle carte sembra che vi state facendo male da soli, cioè questo isolamento che vi state obbligando ad avere, questo continuo ricordo, attaccamento al passato vi causa una situazione di ostacolo. Qua il 9 di spade mi parla di difese che voi alzate nei confronti delle altre persone, nei confronti del mondo, nei confronti anche di una persona che per esempio potrebbe volere una relazione con voi o cerca di avere un rapporto con voi. Qui siete troppo infastiditi dal passato, siete troppo attaccati al passato. Quindi fate fatica a vivere serenamente la vostra relazione, perché avete l'impressione sempre che di ricadere negli stessi errori. quindi questa sarà la situazione vostra, cari amici dei gemelli, per la prossima settimana. Allora io vi saluto, cari segni di aria e ora passo agli ultimi, cioè ai segni d'acqua. Cari amici dei segni d'acqua, ben trovati. Allora abbiamo lo scorpione, i pesci, il cancro. Partiamo subito con il segno dello scorpione, lo mettiamo qui, vado ad aprire la stesa. Allora abbiamo un 8 di bastoni, un re di pentacoli e poi abbiamo un 6 di bastoni. Sto spostando tutto, ok? Vediamo l'oracolo dell'amore. Sentimenti romantici, i tuoi sentimenti sono reali e vale la pena di esaminarli. Allora, cari amici dello scorpione, questa settimana potreste avere a che fare improvvisamente con un uomo, se siete donne che guardate, un uomo è anche ben, diciamo, una persona che sta bene economicamente o comunque ha un segno di terra, capricorno, toro o vergine, è una persona che ha molta sicurezza e può dare molta sicurezza. Quindi il lotto di bastoni mi può parlare anche di un contatto che voi avrete a breve con questa persona o un successo, perché qua abbiamo il 6 di bastoni che mi parla di realizzazione di una persona che capisce il valore di quello che ha davanti, una persona che si realizza, nel vero senso della parola. Allora, qua abbiamo anche i sentimenti romantici, non escludo per alcuni di voi che una persona possa farsi avanti, nel vero senso della parola, e offrirvi qualcosa di concreto, se siete uomini che guardate qui, le carte vi invitano ad esprimere i vostri sentimenti, perché voi comunque apparite come delle persone che vogliono qualcosa di serio, che hanno da dare una sicurezza e se voi prendete l'iniziativa avrete successo rispetto a quello che cercate, quello che volete dal punto di vista sentimentale. Il re di denari potrebbe essere anche una persona che è impegnata, quindi nel caso in cui aveste a che fare con una persona che sapete essere già impegnata, questa persona potrebbe farsi sentire a breve e essere estremamente romantica, estremamente dolce e questa persona potrebbe avere la necessità di farsi vedere che lui è bravo, che lui ha questo, che lui ha quest'altro, insomma potrebbe avere un atteggiamento di questo tipo. vediamo il segno dei pesci, lo metto sopra al simbolo dei segni d'acqua e apriamo la stesa, allora la morte, la ruota, un sacco di arcani maggiore e il tre di denari e poi abbiamo da una possibilità alla tua relazione e lavora sulla coppia. Allora cari amici dei pesci, qui potreste la prossima settimana avere un cambiamento improvviso e anche piuttosto drastico e al centro stesa abbiamo una ruota che mi parla di mutamenti, qua potrebbe esserci proprio un cambiamento importante con una persona, sia il due o tre di denari che gli oracoli dell'amore mi parlano di lavorare sulla coppia, quindi un escludo che sia una situazione che si ripete, quindi potreste ritornare ad avere a che fare con una persona con la quale c'è un po' di instabilità, quindi la ruota mi parla anche di qualcosa che continua a cambiare, che ritorna eccetera. Qui c'è la necessità di costruire non tanto il rapporto che di fatto c'è già, dovrebbe esserci già, ma più che altro andare a smussare i dettagli per poter partire con questo rapporto. Se non avete nessun tipo di legame al momento, qui le carte ci vengono a dire che o torna qualcuno di molto importante per voi, cioè una persona che è stata veramente importante in passato e c'è un cambiamento inaspettato che proprio non prevedevato in nessun modo e qua darete una possibilità a questa persona, non escludo in qualsiasi situazione che ci siano proprio dei contatti, perché qua il tre di denari mi parla anche di uno scritto, quindi l'arrivo di una lettera, un messaggio, qualcosa di importante, in ogni caso la ruota, il centro steso mi parla di qualcosa che evolve e che cambia completamente la situazione attuale. vediamo il segno del cancro, asso di denari, tre di coppe e poi abbiamo un quattro di spade, vediamo l'oracolo dell'amore, fidanzamento, la tua vita amorosa sta raggiungendo un livello di impegno più elevato. Allora cari amici del cancro, qui per alcuni di voi la prossima settimana potrebbe esserci un incontro, anche programmato perché no, dei momenti di serenità, di felicità con questo asso di denari e anche la possibilità di concretizzare. Attenzione che questo tre di spade è sì la possibilità di frequentazione con una persona, ma fate attenzione perché il tre mi parla anche di una situazione di tre persone, quindi qui potrebbe benissimo esserci una relazione a tre, non escludo. Il quattro di denari mi parla di un blocco di solitudine, di fermo, quindi una delle situazioni che emerge maggiormente in questa stesa, se sapete di essere in un rapporto a tre, quindi avete a che fare con una persona impegnata, qui il fidanzamento con questa persona, cioè il fidanzamento scusate, il rapporto stabile sta causando dei problemi perché qui voi volete un rapporto sentimentale importante o voi o l'altra persona, uno dei due vuole che il rapporto cambi prospettiva e me lo dice sia la carta dell'oracolo che del fidanzamento ma anche dell'asso di denari perché l'asso di denari è un'opportunità concreta, di concretizzare e il fatto di essere in tre crea un problema su questo perché questa persona o voi non potete andare oltre. Il quattro di spade mi parla di un fermo, quindi qui c'è un blocco, un momento anche di riflessione, di riposo per capire in che modo muoversi. Per chi non ha niente a che fare, non ha flirt, non ha compagni, morose, fidanzate, è single diciamo, qui c'è l'opportunità, ci sarà una nuova frequentazione, se avete un'amicizia che tende sul tenero qui avrete la possibilità di frequentarsi, probabilmente potreste uscire insieme e la situazione potrebbe andare oltre, quindi se magari siete amici qua potreste riscoprire dei sentimenti e metterli insieme eccetera. In ogni caso verso fine settimana qui c'è un momento di pausa, di fermo. Va bene cari amici del segno d'acqua, io vi ringrazio e vi aspetto alla prossima settimana.